Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo trascorso questo tempo perché stavo parlando con quelle ragazze e sarebbe stato solo noioso e usere tutto. Qua un attimo ho sbagliato a rinominare, dovevo rinominarlo 12, l'ho rinominato 6, non vorrei che... ma perché si sdoppia nei video, non vorrei in questo senso farvi capire che... perché avevo sbagliato, questo qui è il numero 12, non è il numero 6, il numero 6 l'avevo già caricato da me. Oh, ciao, ciao, ciao. Che hai? Cosa guardi? Non senti? Sto facendo un'altra cosa, un attimo. Ah, ciao, truletto, random, 12, questo qua è il numero 12. Oh, dai, ci vediamo, ciao ragazzi, sembrate troppo... ma dai. Oh, gira la webcam, gira la roba, gira la stronzo, gira la. Mamma mia. Ok, ora è il numero 12. Oddio, questo? Ma stai calmo, eh, questi denti. Tu hai denti strani, io ho il naso strano, io ho anche capelli strani, eh. Tu sei un po' strano. L'italiano, inglese, umpa loompa, elfico, parli pure l'elfico, no? Ti scrivo così, magari capisci. Non si può. Mamma mia. Certa gente, ragazzi. Age18, location Italy. Connected to somebody? Connected to somebody? Ah, poi possiamo, devo rovinarci la vita. Poi non si scrive staccato, quindi. Adesso facciamo un casino di video in due giorni. No, 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 no. Ciao, ciao, tutto bene? Niente. Scusate ragazzi, devo andare in bagno, devo andare in bagno a fare la pipì, come faccio? Non posso staccarmi? Devo andare a fare la pipì, ragazzi, in serio, non ce la faccio più. Ragazzi, ragazzi, è un problema. Devo fare la pipì. Come faccio? Cioè, è proprio un problema di quelle che mi porto dietro da un po'. Devo fare la pipì. Quindi, adesso vado a farla, quindi ciao. Devo andare a fare la pipì. Sto qua. Sto qua anche qua. La pipì. Eh, ragazzi, sono tornato. La pipì ci stava, eh. Ci stava. Adesso ripartiamo subito. Aspettate un attimo. Adesso qui, continuo a dire che non è, sì, ci c'è, ma c'è, ti dico che c'è, me lo ricordo. Potrei anche andarlo a rivedere. Weee! Shadows in my heart. It's in the leadway. Somewhere in the dark. Mi chiamo. Mi chiamo, mi chiamo. Mi chiamo. Mi chiamo, mi chiamo. Mi chiamo, mi chiamo. Mi chiamo, mi chiamo. age 17 meme sto scrivendo le mie informazioni scusate eh location cosa metto via fuori about me oddio lingue di italiano italiano inglese francese io non parlo stessa lingua pakistano arabo finlandese berlusconiano location ora va bene ok ci siamo shadow di mark Ciao Shadows in my heart Non ho cliccato un app Io pensavo che boh Non c'era nessuno Stavo scrivendo Posso qui continuare a dire che no Stop No dai Siamo ripartiti Siamo ripartiti In occasione del centenario della Repubblica Qua abbiamo Giorgio Napolitano Ciao Giorgio Ciao a tutti Sono Giorgio Napolitano Volevo dire Forza Roma Forza Roma sempre Forza Roma Volevo dire Berlusconi Un gran coglione E volevo dire di seguire Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano Che proprio Repubblica Viva l'Italia Viva il mondo Viva l'Europa Viva Giorgio Napolitano Viva Così che dice lui Questa è una cosa che dice sempre Quando va a fare i comizi Invece Grillo Quando va a fare i comizi cosa dice? Dice Ciao a tutti belli e brutti Oggi Buttiamo fuori la vecchia polizia Fatelo così No perchè lui sa di fare le visualizzazioni su Youtube Sicuramente sono più delle mie Però Noi speriamo sempre bene Nel Cristo Nel Cristo Ciao Niente Ci sono cose che Ci sono cose che Ci sono cose che Ci sono cose che la gente Non vede Io spero di non vedere gente Strana qui su chatulette www.youtube.com 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 Cosa stai facendo? Ma che scopre? Ma vai in giro Ma guarda qua Accidenti Accidenti Cosìove? Lo so spaventato, spaventato eppure stavo salutando, se li avessi fatto il dito medio forse ciao Vedete questo? questo qui è un mouse adesso vendo il mouse ormai ho già sondato il terreno sulla questione di fare il WP3 questo qui è un mouse te lo vendo, ti vendo il mouse e te lo vendo a 2.000 euro 2.000 euro, ti vendo il mouse e 2.000 euro te lo vendo ti vendo 2.000 euro il mouse 2.000 euro oggi ho venduto poco di solito vendo un casino vendo chiave di casa dove troverete anche i soldi vendo la chiave di casa la vendo la vendo a 2.000 euro subito e però mi dovete dare anche il tempo di di togliere tutti i soldi che ci sono dentro ok? vendo la mia chiave di casa a 2.000 euro vendo la mia chiave di casa a 2.000 euro è la chiave di casa questa oh scusate ecco qua vendo la mia chiave di casa e dentro ci troverete soldi non li troverete perché li toglierò il cibo lo dovete comprare voi i mobili li tolgo però i muri ci sono io vi vendo la mia casa a 2.000 euro quindi non pensate di trovare ecco meno male c'è qualcuno che è interessato perché oggi ho venduto solo 1 euro e l'ho venduto a 1.000 euro su youtube c'è ancora il video però non riesco a vendere questa infatti io gli ho dato il mio euro prezioso che è ancora qui cioè hanno detto che mi manderà un bonifico a casa però adesso non lo trovo qui ce l'ho in tasca forse eh un affarone cazzo si eh te l'ho detto voglio 2.000 euro 2.000 2.000 euro voglio va bene? eh ci paghi l'affitto? però ti informo di una cosa questa chiave non è la chiave di questa casa ma è la chiave della casa dove abita mia mamma che è in affitto quindi ti do una chiave di una casa in affitto quindi tu dovrai pagare l'affitto da oggi il mio affitto eh si eh la vita non è così facile eh forse è così facile solo per me è così facile perché io ho guadagnato 1.000 euro da non gliene uno dai ragazze ci vediamo su youtube eh ciao bene sono sparito ciao yes ok continuiamo a vendere la mia chiave di casa la mia chiave di casa sto vendendo la mia chiave di casa te la vendo a 2.000 euro lo vedete? chiave di casa sto vendendo se c'è qualcuno che mi aspetta magari sto vendendo la mia chiave di casa la vendo a 1.000 euro niente ma lui gli ha detto 1.000 al solito dico 2.000 quindi dovrò anche farmi complimenti dirmi grazie che bravo ti vendo la mia chiave di casa te la vendo a 2.000 euro niente oi oi ti vendo la mia chiave di casa a 2.000 euro no no tu adesso mi rispondi bella zio bella zio parla che ti devo dire sto facendo un video su youtube e apparirai anche tu oddio no 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 così non devi apparire così sennò spaventi le persone va bene ciao oddio 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 ma si può lui fa delle facce keep calm sfogo time ah sdrogo time addirittura ti droghi? no eh per favore anzi io ti propongo un'offerta ti do la mia chiave di casa 2.000 euro per ora nessuno ha accettato però spero che tu accetti perché comunque dentro non ci troverai niente ok? ti stai? però oggi ho fatto un affare ho venduto il mio euro un euro e mi hanno dato 1.000 euro è stato l'affare della mia vita ok comunque ti auguro buon anno e felice anno nuovo e felice Befana buona Pasqua auguri ok auguri ciao ah beh assolutamente hai ragione dai hai ragione anche qui ciao mamma mia esattamente certo non è che gli potevo dire di no ecco ciao ma tu sei Casper? ah perché era Casper sembrava Casper scusatemi adesso devo vendere la mia chiave di casa vendo la mia chiave di casa non ho ancora accettato nessuno mi chiedo perché comunque vendo questa anzi no dai vendo qualcosa di più bello ok questo no ho vinto la Champions ragazzi ho vinto la Champions ho vinto la Champions ho vinto la Champions ho vinto la Champions hai visto? ragazzi voglio vendere qualcosa allora vi vendo aspetta vi vendo questo cd ti vendo questo cd ti vendo questo cd ti vendo questo cd a soli 1500 euro niente beh adesso dovevo girare ti vendo questo cd a 1500 euro va bene ci stai io l'ho rubato ti vendo questo cd ti vendo questo cd a 1500 euro ok? la vostra è bella ok? la vostra è bella forse non vi piace ti vendo questo cd te lo vendo a 1500 euro ti vendo questo cd te lo vendo a 1500 euro ci stai? ci stai? io l'ho rubato no? ok va bene grazie lo stesso no peccato perché ciao ti vendo questo cd a 5 euro 5 euro per questo cd non vi piace il genere non lo vuole nessuno non lo vuole nessuno non lo vuole nessuno sto cd non lo vuole nessuno sto cd tu lo vuoi? 2000 euro subito te lo vendo io l'ho rubato eh stai tranquillo mi vendo l'agenda del 2012 mi vendo l'agenda del 2012 raga ti vendo l'agenda del 2012 te la vendo a 5 euro ti vendo l'agenda del 2012 a 5 euro pronto giudizio buon 2012 ti vendo l'agenda nuova a 5 euro ti stai? 2012 stai e? Niente, va, tu non sei un buon cliente Ti vendo, ti vendo questa agenda a 5 euro Buon 2012 Ti vendo questa agenda a 5 euro Buon 2012 Ti vendo questa agenda, la volete? 2012 Niente, lasciamo perdere, non vendo più niente Non voglio manco l'agenda nuova Rivendo il mio euro Ragazzi, io ho già impegnato quest'euro Ho già impegnato quest'euro Ma se lo vuoi te lo do a 3.000 euro 3.000 Io l'ho venduto a 1.000 stamattina Però da te faccio l'offerta a 3.000 Ok? 3.000 euro mi dai per questo euro? Ma dietro è speciale, eh? Guarda Guarda C'è la testina, è quella di Di Claudio Lippi Si tira nazionale italiana dal 2006 Poi anche nel 2010 E' un euro, lo so, ma può essere speciale per le vostre feste? Niente Ok, un euro sto vendendo Sto vendendo un euro, ragazzi Sto vendendo Sto vendendo un euro Niente Sto vendendo un euro Ragazzi, sto vendendo questo euro Ragazzi, sto vendendo questo euro Sto vendendo questo euro Lo vedi questo euro? Lo metto in vendita 1.000 euro Subito Dammeli subito 1.000 euro Stamattina l'ho venduto 1.000 euro di nuovo Perché non potrei farlo anche adesso? 1.000 euro Io gli accetto tutti i soldi Stai tranquillo Però Io non frego le persone Io ti do questo euro qua Però mi devi dare 1.000 euro Dietro c'è scritto Guarda E' la faccina, cioè Dove lo trovi un euro così? Dappertutto Ecco perché te lo vendo 1.000 euro Beh, vai via, va Non ce la faccio più Via Ok Allora 1.000 euro ti vendo Ti do 1 euro per 1.000 euro Ti stai? Niente Non sono bravo come venditore Eppure Ehi, ti vendo questo euro E te lo vendo a 1 euro Eh, ma che cavolo dici 1 euro Perfetto Bologno è O ti vendo questo euro A 1.000 euro Ti vendo questo euro a 1.000 euro Niente Ti vendo questo euro a 1.000 euro Ti vendo questo euro Niente, basta, non vendo più È un euro Come cazzo di lingua pallida È bello? Scusa Siamo su YouTube Ciao grande Dove siamo su YouTube? Sul mio canale Sul mio canale Come ti chiami? Aspetta, aspetta 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 No, aspetta Tu scrivi YouTube.com Flash è perché non viene fuori capito non viene fuori posso scrivere solo questo ok l'ho appena scritto non c'è arrivato niente impossibile ecco si l'abbiamo trovato è questo qua adesso guardiamo ok ciao sono un alcolizzato ragazzi adesso faccio l'alcolizzato sono tornati sono un alcolizzato devo far finta di essere alcolizzato ragazzi è una una di quelle cose che non verrà mai nella vita devo fare l'alcolizzato non mi ricordavo di aver messo in descrizione che eravamo su youtube veramente oh veramente oh veramente oh ma va non cerca nessuno stoppato stoppato non posso fare l'alcolizzato mi fate piangere ragazzi mi fate piangere mi fate piangere si vi sento vi sento ciao ciao sento 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 non vi ho togliero ragazzi ciao oh guarda io oh 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 mamma mia adesso ho gente che legge queste cose poi diventa diventa assurda no dai certa gente non si poteva vedere scusate si vende la lametta usata a 2 euro cosa piangi cosa piangi adesso leggono la mia descrizione che è questa qua italiano, inglese, pakistan, finlandese bellusconiano aggiungiamo qualche lingua perché funziona ciao bellusconiano antisemita fascista vedete ma che spoilt ma va via la ma pensa a te ciao spoilt ma va via ciao niente ciao ciao ragazzi ciao tutto bene fate un sorriso perché non si vedono le facce fate un sorriso anche se non si vede avete fatto? no dai così no vi prego ok bravo almeno sono apparse bene grazie la mia come si dice adesso cambio e metto le lingue io non so parlare queste lingue sapete che le tolgo perché non so parlare ok allora italiano e basta basta italiano cosa vuoi che parli parlo italiano no 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 questo qua è 19 19 19 19 19 19 19 19 ok siamo in posto e ciao che che è sta faccia da morto tu con la vita la parola di ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ragazzi no il dito medio su internet no ragazzi dai per favore ciao ragazzi ciao oddio tu perché sei qua perché sei qua perché sei qua per favore non ci sbagliare ormai par chiusa mi fa loro è vero se chi sa lo faccio opposta a farlo su youtube allora scrivo solamente ciao a tutti buon anno Вamp ciao a tutti i due buon anno Io non devo credere Ciao ragazzi Alcuni stavano facendo le sceme apposta appena leggevano Quindi non va bene Ciao ragazzi Vi saluta, vi saluta Dio Quindi vi saluto io Ok? Ciao Adesso dobbiamo caricare il 18 Qui c'ho 7000 finestre aperte Non ce la faccio più Tra poco vediamo No Uè Ciao figlione farà farà il colletto di cioccoli no no dopo questa dopo questa Ciao, sei un essere umano tu Spero siamo simbili Cazzo ridi? Che cosa ridi? Perché ridete? Ehm... Io mi distrago un attimo perché sono qua un attimo a fare altre cose e questi si mettono a ridere Cosa fa qui? Ma guarda te Ehm... 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 Boh... In capo... Non lo sappiamo noi Eh, non lo capire Ciao eh Quello lì era... Edoardo Pennato Mi ricordo sempre se avete i nomi però si assomigliano a loro Si assomigliava a Edoardo Pennato Ho trovato il mio dottore Ciao Ciao Location non si sente un cavolo Vai giocatrice! Vai giocatrice! Non giocano... Ehm... 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 Ehm...